I vaccini, un invito a riflettere sulla disinformazione e sulla dilagante paura del loro impiego. È il tema che è stato trattato ieri nei locali della scuola Enrico Solito di Gela, nell'ambito di un convegno organizzato in collaborazione con il Kivanis Club. Si è cercato di fare chiarezza sul delicato tema dei vaccini, che hanno salvato milioni di vite e contribuito a far scomparire malattie mortali. Ieri sono intervenuti numerosi esperti. I lavori sono stati moderati da Rita Domicoli, pediatra di famiglia. Quello che sta succedendo purtroppo nel nostro territorio è che c'è un calo delle vaccinazioni. Questo di fatto consente a malattie che sembravano completamente debellate di ripresentarsi circolare con tutto quello che provocano le singole malattie. In particolare io oggi ho parlato del rotavirus, quindi della gastroenterite nei bambini più piccoli che questo virus provoca. La vaccinazione previene in modo brillante questo tipo di patologia, che è importante, è un impegno particolarmente oneroso per i medici e per i costi del servizio sanitario. Io voglio esaltare le mamme ad far sì che i loro bambini vengano protetti da queste malattie, approcciandosi in modo tranquillo, sicuro e fiducioso nei confronti di queste vaccinazioni. Le vaccinazioni che hanno funzionato nel corso dei decenni e soprattutto da noi ci hanno fatto scordare che esistono e purtroppo esistono ancora delle malattie che quasi sono scomparse grazie alle vaccinazioni. Se dimalauratamente arriveranno a toccare una soglia inferiore a una percentuale di protezione che è del 95% e matematicamente certo e scientificamente corretto ripartono le epidemie. Negli ultimi anni in Italia si è assistito ad un notevole calo delle vaccinazioni in pediatria, fenomeno preoccupante che ha richiamato l'attenzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in Italia dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute. I vaccini devono seguire praticamente l'iter della nostra vita, un iter che inizia dalla nascita e forse ci accompagna alla morte, però sicuramente il vaccino potrebbe molto spesso, se fatto nei tempi e nelle modalità corrette, potrebbe diventare un salvavita. Il Kevanese quest'anno ha voluto dedicare questo incontro proprio per promuovere e sensibilizzare le persone interessate sull'importanza dei vaccini, in un momento in cui l'Italia è praticamente stata richiamata dall'Organizzazione Sanitaria Mondiale per il fatto che c'è un calo dei vaccini. Quindi speriamo di riuscire a contribuire in maniera determinante a questa classe.